eccoci qua ben trovati nuovo appuntamento di effetti collaterali assolutamente positivi insieme a clara mallegni e silvia fossati intanto che piacere benvenuto io sono con due belle donne ecco due belle signore quando sono quelle signore sono sempre a mio agio ciao clara ma hai portato ma hai portato silvia introducimi un attimino chi è silvia e poi andremo a conoscerla meglio vai benvenuta silvia fossati una mia cara amica silvia è una pittrice è una pittrice un artista riconosciuto a livello internazionale ma si è che ha un grande amore per la forma che porta sempre più che la porta sempre più verso la ricerca della della plastica diciamo ma vorrei che fosse lei a introdurre la la sua arte silvia benvenuta ci racconti di lei grazie a voi di avermi invitato è una persona curiosa mi definirei una persona così curiosa che qualsiasi materiale e qualsiasi spunto mi mi fa promuovere la ricerca in un certo settore per cui può essere c'è stato la plastica c'è stato il metallo il vetro chiaramente la terracotta che è stata la mia specialità che ho anche insegnato per molti anni eh però sono disposta a qualsiasi cosa se domani mi dicano l'acqua fresca bene io parto e studio l'acqua fresca bello è bello sentir dire per l'arte sono disposta a qualsiasi cosa vero clara assolutamente sì sono assolutamente d'accordo silvia scusami ma tra le tue tante cose io sono curiosa di di sentirti raccontare qualcosa a proposito perché te sei una arte terapeuta che cosa significa bello racconti allora poiché l'arte in questi anni non paga ho rispolverato tutte le mie esperienze giovanili nell'aiuto a persone in difficoltà e io avevo studiato in vari paesi anche eh stranieri tipo Brasile Austria Germania eh come eh si sono approcciati i vari arti terapeuti nelle epoche passate prima che ci fosse questa scuola che ha fatto una didattica di un certo tipo che forma ma non insegna a come affacciarsi a questa a queste situazioni e quindi quando fui chiamata per lavorare all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino io proposi invece di fare un semplice laboratorio di fare un lavoro di arte e terapia quindi la fermo subito quindi quindi con gli ospiti dell'ospedale psichiatrico praticamente creava creava faceva creare dell'arte allora io li stimolavo a fare arte perché ci serviva come chiave di lettura per capire certe problematiche che non vengano fuori dai colloqui o dalle indagini specifiche e dall'86 che io ho cominciato sono sempre stata richiamata e ho lavorato tutti questi anni là e ora ancora lavoro presso l'asle di Firenze in un centro di riabilitazione psichiatrica bello ho anche una cosa interessante un artista è anche una persona che dà una mano è clara assolutamente sì assolutamente Silvia guarda una persona tra l'altro Silvia è anche presidente di un'associazione piano piano vi dirò tutto ma guardi tutto e non sia timida è con noi allora l'associazione che ho fondato nel lontano 1976 quando l'arte si poteva sviluppare trovavamo anche persone che ci aprivano le porte per le sperimentazioni vive tuttora e tuttora stimola gli artisti a lavorare su dei temi gli ultimi due che abbiamo promosso sono stati intrecci con il barocco dedicato alla città di pontremoli e l'ennesimo libro d'artista che lo curiamo dal 2004 bello clara è stata una dei nostri artisti per il libro d'artista e spero che continua a esserci soltanto quest'anno la pandemia ci ha bloccato abbiamo tutte le opere pronte ma non abbiamo né spazi né possibilità in questo momento di farlo facciamo facciamo chiediamo spazi e possibilità per l'arte chi ci sta seguendo abbiate pazienza eh ma c'è spazio per tutto ve lo dice uno sportivo giocato tanto anche a pallone c'è spazio per il calcio e viva il calcio ma viva anche l'arte e diamo qualche spazio no all'arte esiste io dico di sì eh vero è molto difficile normalmente ora poi è ancora più difficile noi dovevamo andare in sette musei per presentare la nostra ricerca sul libro d'artista e piano piano stanno arrivando tutti che dicano non riapre non riapre non possiamo ospitarvi e quindi non si sa se salta o se troveremo qualche spazio che ci aprirà lo troverete sicuramente lo troverete sicuramente perché ci guardano ci ascoltano io so che lo troverete certamente senta silvia mi dice qualche pagina della sua associazione e poi clara mi ha raccontato a camera spenta di una casa blu eh allora noi siamo su facebook abbiamo una pagina due pagine facebook una studio giambo e una dedicata proprio al libro d'artista dove viene pubblicato tutto quello che riguarda questo evento poi siamo su instagram dove abbiamo recentemente pubblicato tutti i lavori fatti durante no tutti una selezione di lavori fatti dagli artisti durante la chiusura in casa quindi era un'immagine al giorno per superare la pandemia e abbiamo avuto tante tante adesioni abbiamo fatto una selezione e ora ci sono mi sembra 60 o 65 opere pubblicate su instagram studio giambo studio giambo questa associazione vai clara e che dire andiamo allora visitare tutti tutte le informazioni vediamo tutte le informazioni di studio giambo perché tra l'altro silvia è anche consulente per il comune di pontremoli per l'organizzazione degli eventi e quindi aspettiamo notizie dal comune di pontremoli da silvia e magari perché no un'altra volta un collegamento con un evento proprio da silvia o magari dalla splendida casa blu sul fiume con un giardino meraviglioso dove io ho avuto la fortuna di essere stata ospitata bene allora io attendo l'invito in questa casa blu ringrazio tanto silvia fossati carinissima gentilissima e pazientissima d'altronde un artista ringrazio clara mallegni e ricordatevi che i nostri effetti collaterali sono sempre e assolutamente positivi ciao ciao a tutti